Se avete bisogno di account moddati, account glitchati, aggiunta di soldi o rango all'interno del vostro account per PS4 su GTA 5 online, vi invito ragazzi a contattarmi ad uno dei contatti che troverete in descrizione. Offriamo questo servizio di recovery per i vostri account, se ragazzi ne avete bisogno troverete i contatti dove potermi contattare in descrizione, è consigliato a contattarmi su Telegram. E ora ragazzi non vi rubo altro tempo, vi lascio al video. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Krix, oggi ragazzi sono qui finalmente ritornato ragazzi miei su GTA 5 online. Benvenuti e bentornati qui nel mio canale, oggi ragazzi come avete detto dal titolo, benvenuti in questa nuova versione, veramente ragazzi ancora più semplice, riguardo il glitch per moddare i veicoli. Come sapete ultimamente c'è questo glitch ragazzi che vi permette di trasferire in pratica delle modifiche moddate, prendendole da un veicolo, se ve l'avete fatto passare o comunque se già ce l'avete moddato, con appunto targa di North Yankton, finestini verdi, colore moddato, cerchi di Bennys appunto insomma. Ultimamente insomma ragazzi sta girando questo glitch, ho scoperto questo after patch abbastanza più semplice. Vi dico da subito ragazzi che vi servirà un amico e insomma con questo glitch molto più semplice ragazzi non vi servirà il Cerberus e potrete appunto moddare tutti i vostri veicoli presenti all'interno dell'arena. Quindi quello che posso dirvi ragazzi è che potete usare anche la versione in solo, basta semplicemente che seguite come andremo a vedere in questo video. Poi magari appunto uscirà più avanti anche la versione in solo che vi permetterà di appunto moddare e quindi di passare tutte le modifiche incluse le libree e insomma chi più ne ha più ne metta ecco. Nel video che ho fatto riguardo in glitch il solo ho detto che potevate passare solamente i cerchi, ebbene ragazzi potete fare o solamente i cerchi oppure passare tutte le modifiche. A breve uscirà appunto il video su come moddare e quindi passare tutte le modifiche in solo. Mi raccomando ragazzi quindi restate sintonizzati nel canale perché a breve usciranno altri glitch di questo tipo. Io ragazzi spero che questi glitch riguardo del modding dei veicoli vi stiano piacendo perché a me da quando è uscito questo glitch ho praticamente l'account pieno di veicoli moddati e insomma ragazzi sto moddando veramente tantissimo perché è un passatempo e mi piace appunto portare le mod anche su altri veicoli insomma. Quindi per me è un passatempo e sono più che felice di registrare questo video in quanto non devo farlo diciamo forzato ma lo faccio liberamente. Quindi insomma prima di iniziare ragazzi sapete già cosa fare mi raccomando il vostro mitico pollicione in sub bomba. Troverete nella descrizione anche le altre versioni al momento funzionante riguardo questo glitch. Quindi se volete informarvi e vedere cosa effettivamente potete fare con questo glitch vi invito ragazzi appunto a guardare i video nella descrizione. Inoltre vi ricordo sempre di entrare nel canale e gruppo telegram il link ragazzi sarà nella descrizione anche per account moddati, account gricciati e aggiunta soldi nel vostro account per PS4. Mi raccomando ragazzi seguitemi su Instagram il link sarà nella descrizione e detto questo insomma possiamo subito partire con il video. Allora i requisiti ragazzi sono sempre gli stessi l'unica cosa che cambierà ci servirà un amico quindi li lascio qui a schermo ovviamente ragazzi dovremmo avere i requisiti base quindi l'arena con l'officina dell'arena e almeno il piano dell'officina. Non ci servirà il B1 e il B2 attenzione ma appunto ragazzi ci servirà il piano dell'officina. Poi ovviamente all'interno del piano dovremo averci un veicolo che dovremo comprare dal sito di Benny che ci servirà inizialmente ad eseguire il glitch. In pratica cosa andremo a fare? Andremo a passare la modifica dal veicolo moddato al veicolo di Benny per poi appunto passare le modifiche dal veicolo di Benny moddato agli altri veicoli presenti all'interno del nostro garage. Potete fare appunto ragazzi questa cosa anche con la versione in solo portate le modifiche dal veicolo moddato al veicolo di Benny per poi appunto portare le modifiche dal veicolo di Benny moddate agli altri veicoli presenti all'interno del vostro garage. Il glitch ragazzi è veramente semplicissimo poi nei prossimi giorni uscirà sempre un glitch a riguardo di questo tipo però per avere delle livree segrete che appunto potete avere ragazzi solamente facendo questo glitch utilizzando un veicolo specifico. Però non siamo qui per parlare di questo insomma ne parleremo in un prossimo video. Questi ragazzi appunto sono i requisiti ovviamente se avete già un veicolo di Benny non modificato attenzione va benissimo lo stesso potrete appunto usare quel veicolo. Io nel video andrò ad utilizzare una Voodoo perché è la macchina che costa di meno sul sito di Benny e mi servirà appunto ragazzi a fare il glitch. Quindi senza perderci in altre chiacchiere passiamo subito alla spiegazione eccoci qui ragazzi in GTA Online. Allora la prima cosa da fare come già detto sarà invitare il vostro amico all'interno della vostra arena. Mi raccomando ragazzi è molto importante perché l'amico se non si trova all'interno della vostra arena purtroppo il glitch non andrà a funzionare. Quindi semplicemente invitate il vostro amico e il vostro amico ragazzi dovrà mettersi nella posizione che avete visto nel video. Quindi lo invitate e gli dite appunto di mettersi in quella posizione. A questo punto una volta che il nostro amico si troverà in quella posizione dovrà andare ad avviare la missione un lavoro da titano andando nel menu di pausa. E una volta ragazzi che il nostro amico avrà avviato la missione del titano quello che dovremo fare sarà iniziare il glitch. Quindi per prima cosa dovremo salire all'interno del veicolo di Benny's che abbiamo comprato precedentemente. Salire al suo interno ragazzi e premere la freccia destra per entrare all'interno dell'officina. Una volta che saremo nell'officina semplicemente andiamo ad applicare la modifica custom e a questo punto ragazzi attenzione non dovremo modificare il veicolo ma appunto dovremo semplicemente e solamente applicare la modifica custom. Ok fin qui tutto semplice una volta applicata la modifica custom senza applicare ulteriori modifiche uscite dal veicolo e a questo punto ragazzi vi servirà il vostro amico. Dovrete andare nel party dovrete ragazzi andare sul suo profilo e dovrete andare a schiacciare su partecipa alla sessione. Questo caricamento che vedete nel video vi consiglio di farlo più volte in quanto facendo poi il caricamento effettivo il caricamento sarà molto più veloce. A questo punto quindi per iniziare il glitch dovremo salire all'interno del veicolo e a questo punto ragazzi quello che dovremo premere sarà la freccia di sinistra. Attenzione non destra ma sinistra. Quindi ragazzi dovremo premere la freccia sinistra e come state vedendo dal gameplay molto velocemente durante questa cinematica dove ci sarà il veicolo che ritornerà all'interno dell'arena. Ecco ragazzi in questa cinematica dovremo velocissimamente premere doppio tasto ps quindi due volte sul tasto ps andare nel nostro amico nel party ragazzi e andare a partecipare alla sessione. Freccia sinistra ci sarà la cinematica velocissimamente ragazzi premete doppio tasto ps andate nel vostro amico e andate a partecipare appunto alla sessione. Questo step ragazzi va fatto molto molto veloce altrimenti il glitch non funzionerà. A questo punto semplicemente aspettate di ritornare nel gioco e ci saranno due messaggi di attenzione di cui il primo messaggio ragazzi lo dovremo confermare con il tasto X. A questo punto ragazzi poi il gioco ci mostrerà un altro messaggio di avviso in cui ci dirà che se vogliamo entrare nella sessione dovremo ricevere un invito. Su questo avviso vi consiglio di aspettare 5 secondi senza rifiutare la schermata perché semplicemente come vedete se confermate da subito la schermata ci sarà questa schermata buggata dove dovrete scendere dal veicolo Selezionare un personaggio della storia e rifiutare la schermata di attenzione così vi potrete sbuggare invece se aspettate 5 secondi ragazzi non avete bisogno appunto di fare questo step del triangolo e poi di selezionare un personaggio. Quindi in base a come avete fatto questo procedimento insomma ragazzi dovrete scendere dal veicolo e se il veicolo non scomparirà allora vuol dire ragazzi che state eseguendo il glitch perfettamente quindi notate appunto quando il veicolo scompare dall'officina. Se scompare dovrete comprare un altro veicolo dal sito di Bennys e fare lo stesso procedimento quindi applicate la modifica e poi fate questo passaggio. Se invece ragazzi non scompare allora potrete continuare con il glitch quindi quello che dovrete fare a questo punto sarà semplicemente andare a prendere il veicolo moddato. Libera scelta ragazzi io andrò a prendere questa Karin Kuruma che come vedete è appunto moddata, ha la targa di North Yankton, ruote di Bennys, finestrini verdi e appunto ragazzi il colore della macchina moddato come vedete è veramente stupenda. Quello che dovete fare sarà salire all'interno del veicolo moddato ragazzi e premere la freccia destra per entrare all'interno dell'officina. Una volta che sarete all'interno dell'officina quello che dovrete fare ragazzi sarà aspettare in pratica quando la macchina farà retromarcia. Potete vedere insomma la macchina si scontrerà con il veicolo low rider presente all'interno dell'arena e appena ragazzi la macchina farà retromarcia e il nostro personaggio diciamo che fermerà la macchina come vedete dovrete appunto fare ragazzi esci dal veicolo. In pratica quello che dovrete fare sarà parcheggiare la macchina il più lontano possibile dal quadrato giallo dove possiamo modificare il veicolo nell'arena. Cercate di seguire il video con attenzione per capire insomma altrimenti il veicolo ragazzi scomparirà e dovrete rieseguire il glitch da capo quindi cercate di appunto parcheggiarlo il più lontano possibile ragazzi da questo quadrato che vedete nell'officina dell'arena. A questo punto una volta arrivati con il veicolo all'interno insomma dell'officina dovremo salire nuovamente al suo interno dopo aver fatto esci dal veicolo dovremo premere ragazzi la freccia a destra e dovremo applicare una modifica casuale. Ovviamente se abbiamo ragazzi la targa di North Yankton non dovremo cambiare la targa altrimenti andremo appunto a perdere la targa di North Yankton quindi vi consiglio di cambiare magari l'armatura o magari i freni. Applicata la modifica dovrete ragazzi fare esci dal veicolo e a questo punto dovrete portare la mod sul veicolo low rider quindi quello che dovrete fare una volta fatto ciò sarà scendere appunto dal veicolo moddato ritornare ragazzi nel veicolo di Benny e quello che dovrete fare come prima sarà premere la freccia sinistra ragazzi. A questo punto andate nel party con il vostro amico andate a fare X su partecipa alla sessione e come prima ragazzi dovrete confermare il primo messaggio di attenzione e se volete o confermare o aspettare 5 secondi sul secondo messaggio di attenzione. Quindi anche qui a questo punto ci sarà la schermata frizzata come prima e quello che dovrete fare su questa schermata una volta ritornati nel gioco dovrete premere la freccia a destra senza ragazzi scendere dal veicolo. Attenzione molto importante non dovrete ragazzi scendere dal veicolo altrimenti lo andrete a perdere quindi una volta che vi troverete in questa schermata a seconda di come avete fatto il glitch dovrete premere la freccia a destra il gioco ragazzi vi porterà all'interno dell'officina con il veicolo moddato e a questo punto come avete visto andate ad applicare semplicemente una modifica applicata la modifica ragazzi fate esci dal veicolo appunto scendete dal veicolo tenete premuta la freccia in basso per selezionare un personaggio della storia e rifiutate la schermata di attenzione. A questo punto il gioco vi farà sbaggare e come potete vedere ragazzi boom la mod si è trasferita perfettamente sul veicolo di bennies quindi a questo punto quello che ci basterà fare adesso ragazzi sarà utilizzare questo veicolo per moddare gli altri appunto veicoli. Come vedete il glitch è veramente semplicissimo quindi per continuare a moddare quello che dovrete fare sarà ritornare all'interno del veicolo di bennie premere ragazzi la freccia a sinistra doppio tasto ps x su partecipa alla sessione e dovrete ragazzi confermare tutti e due i messaggi di attenzione. Una volta fatto ciò nel gioco ci sarà una schermata frizzata dovrete scendere dal veicolo con il tasto triangolo tenere premuta ragazzi la freccia in basso selezionare un personaggio della storia e rifiutare la schermata di attenzione. A questo punto una volta fatto ciò per continuare appunto ragazzi a moddare altri veicoli dovremo semplicemente fare questo primo passaggio e una volta fatto ciò andiamo ragazzi a prendere il veicolo al quale vogliamo applicare le modifiche. Nel mio caso sarà la tornado rat road quindi una volta entrati nell'officina con il veicolo al quale vogliamo mettere questa mod semplicemente ragazzi come prima dovremo aspettare che il nostro personaggio vada a parcheggiare la macchina quanto più lontano possibile dal quadrato giallo per modificare il veicolo mi raccomando questo passaggio è molto importante. Quindi a questo punto una volta parcheggiato il veicolo fate esci dal veicolo ritornate all'interno del veicolo di Bennys e a questo punto ragazzi andate ad applicargli una modifica una modifica qualsiasi va bene anche l'armatura. Ovviamente se avete la targa di North Yankton non cambiate la targa altrimenti andrete appunto ragazzi a perdere la targa di North Yankton. A questo punto applicata la modifica ritornate nel veicolo il quale ragazzi volete moddare e come prima semplicemente dovrete salire all'interno del veicolo premete freccia sinistra per appunto fare l'opzione per tornare il veicolo al proprio posto e durante questa cinematica ragazzi dovete premere doppio tasto PS X su partecipa alla sessione e confermare tutte e due i messaggi di attenzione. A questo punto una volta fatto ciò ritornati nel gioco dovrete semplicemente applicare una modifica per far salvare il veicolo consiglio comunque di aspettare almeno 5-6 secondi sul secondo messaggio di attenzione così non dovrete appunto ragazzi fare il passaggio del triangolo e poi di selezionare un personaggio della storia magari poi uscirà una versione più aggiornata dove vi farò vedere appunto questo passaggio. In ogni caso a seconda di come avete fatto il passaggio una volta fatto ciò ragazzi spawnati con il veicolo moddato quello che dovrete fare sarà semplicemente premere la freccia destra ragazzi e applicare una modifica in modo da poter appunto far salvare il veicolo. A questo punto una volta fatto ciò avremo ragazzi eseguito di nuovo il glitch alla perfezione quindi avremo moddato ragazzi un altro veicolo. Ora chiaramente se vogliamo continuare a moddare utilizzando il veicolo di bennies principalmente quello che dovrete fare ragazzi sarà appunto di eseguire il glitch da capo quindi semplicemente tornate all'interno della voodoo premete la freccia sinistra ci sarà la cinematica e in questa cinematica ragazzi molto velocemente dovete premere il doppio tasto ps e partecipare all'amico confermare il primo messaggio di attenzione e consiglio di aspettare appunto ragazzi 5-6 secondi sulla seconda schermata di attenzione. Nel caso ragazzi vorreste passare magari un altro tipo di mod al veicolo low rider quello che dovrete fare sarà non andare a prendere il veicolo normale ragazzi ma appunto il veicolo moddato poi dovrete applicare la modifica al veicolo moddato e fare il passaggio del freccia sinistra doppio tasto ps x sull'amico per partecipare alla sessione per appunto ragazzi applicare la modifica sul veicolo low rider e successivamente poi portare questo altro tipo di mod sugli altri veicoli presenti all'interno della nostra arena. Come vedete ragazzi il glitch è veramente facilissimo qui per eseguire il glitch semplicemente dovrete entrare all'interno del veicolo low rider una volta ragazzi rientrati all'interno del veicolo consiglio di prepararvi il partecipa a sessione prima in modo che il caricamento sarà più veloce quindi premete freccia sinistra ci sarà la schermata dove il veicolo tornerà all'interno dell'arena e in questa schermata ragazzi velocissimamente premete due volte il tasto ps. Andate sul vostro amico andate a fare x su partecipa alla sessione confermate primo messaggio ragazzi e sul secondo messaggio aspettate circa 5-6 secondi dovrete sentire in pratica il gioco che vi fa fare boom 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 quando appunto sentirete il terzo boom che il gioco vi porterà appunto nel cielo a quel punto ragazzi confermate la seconda schermata di attenzione. A questo punto io come vedete vado ad applicare questo tipo di mod che ho sulla kuruma ragazzi l'andrò ad applicare alla voodoo per poi passare questa mod dalla voodoo ad altri veicoli quindi quello che dovrò fare sarà andare a prendere il veicolo moddato a questo punto vi posizionate su esci dal veicolo premendo una volta il tasto cerchio appena ragazzi il veicolo farà retromarcia velocissimamente fate esci dal veicolo. A questo punto ritornate nel veicolo moddato premete ragazzi la freccia destra e modificate un particolare della macchina anche qui se avete la targa di North Yankton ovviamente non andate a cambiare la targa altrimenti ragazzi andrete appunto a perdere la targa di North Yankton. A questo punto applicate la modifica ritornate all'interno del veicolo premete ragazzi la freccia sinistra ci sarà la cinematica e molto velocemente in questa cinematica ragazzi andate a premere due volte il tasto PS partecipate alla sessione del vostro amico una volta fatto ciò confermate la prima schermata e aspettate 5-6 secondi sulla seconda schermata di attenzione. A questo punto ritornate nel gioco boom altra mod ragazzi messa perfettamente come vedete la Kuruma prima aveva questo tipo di mod e ora questo tipo di mod ragazzi l'ho passata anche sulla V2 perché semplicemente su questo veicolo di Bennys adesso ragazzi andrò a mettere questa mod appunto. Quindi semplicemente una volta spawnati con il veicolo moddato non dovrete scendere dal veicolo attenzione ma ragazzi quello che dovrete fare sarà andare ad applicare una modifica casuale va benissimo l'armatura va benissimo i freni insomma dovrete modificare quello che volete. Questo ragazzi è il glitch potenzialmente non ci sono altri metodi questa è la versione più semplice che ho trovato per appunto potervi far moddare i veicoli molto velocemente con questa versione ragazzi non serve neanche il Cerberus quindi è molto molto più easy. Come già detto la chiave di questo glitch sarà andare appunto a mettere la mod sul veicolo di Bennys per poi appunto ragazzi passare questa mod sugli altri veicoli presenti all'interno del nostro garage. Raga il glitch è veramente facilissimo ovviamente uscirà anche la versione in solo per passare appunto tutte le modifiche e con questo glitch ragazzi appunto potete passare tutte le modifiche quindi se avete la targa di North Yankton passerà appunto la targa di North Yankton. Se avete dei colori moddati passeranno questi colori moddati se la macchina ha dei cerchi di Bennys passerà ragazzi anche i cerchi di Bennys insomma ragazzi è un glitch veramente fantastico e soprattutto molto molto veloce rispetto agli altri glitch che vi ho postato a riguardo di questo glitch appunto. Detto questo ragazzi che dire niente anche per questo video è tutto io ragazzi spero abbia apprezzato ovviamente se non avete capito qualcosa ragazzi vi invito a tornare indietro nel video perché il glitch è veramente semplicissimo. Vi invito ad entrare nel gruppo e canale Telegram troverete il link nella descrizione anche per account moddati, account glitchati e aggiunta soldi nel vostro account per PS4. Seguitemi su Instagram, Facebook e Twitter anche questi link da ragazzi saranno nella descrizione. Grazie mille a chiunque abbia lasciato quel pollicione in su ancora prima di finire di vedere questo video sei un grande. E niente raga ovviamente nei prossimi giorni arriverà una versione in solo quindi ragazzi restate sintonizzati. Qua da Krix è tutto noi ragazzi ci becchiamo prossimo video, prossima live o un prossimo glitch. Bella Waijuuuu. Ciao, ciao. Ciao.